Come associazione di cittadini riteniamo che la chiusura del passaggio a livello richiesta dalle ferrovie dello Stato possa e debba diventare un'opportunità di crescita e miglioramento della qualità di vita dei cittadini, dei turisti e di tutti coloro che gravitano sul nostro territorio. Per questo chiediamo fortemente che i finanziamenti pubblici di oltre 5 milioni di euro stanziati dalle ferrovie dello Stato per le opere sostitutive e all'infrastruttura alle nostre spalle vengano spesi per un progetto misurato ai reali bisogni della città. L'incontro con il vice prefetto di ieri pomeriggio ci ha lasciato perplessi poiché non ci è chiaro come mai la massima autorità del governo nella nostra provincia non abbia ancora verificato se il progetto approvato sia conforme alla legge. Vorremmo porre l'attenzione sul fatto che l'intero sottovia carrabile di via Ugo Foscolo a ridosso del fiume Cesano è previsto nell'unica area a più alto rischio di esontazione di tutto il territorio comunale, area in cui il piano di assetto idrogeologico regionale del 2004 per preservare l'incolumità dei cittadini proibisce la realizzazione di nuove costruzioni. Ci chiediamo pertanto come mai un'amministrazione pubblica possa solo pensare di inserirci un'infrastruttura. Troppo spesso, purtroppo, non si rispetta l'elevata fragilità idrogeologica del nostro territorio e forse per l'assenza totale di progettazione e controllo preventivo che viviamo in un paese in cui si verificano disagi imbarazzanti, che ascoltiamo quotidianamente in televisione e a cui rimediabilmente soccombono i cittadini. È sorprendente il silenzio dell'autorità di Baccino. È invece un buon segno che il presidente del Tarra voglia vederci chiaro, ha fissato l'udienza definitiva in tempi molto ristretti e si deciderà anche per la sospensiva. Non possiamo rassegnarci alla mutilazione della nostra città, per questo l'associazione proseguirà nella propria posizione con tutti i strumenti possibili. Grazie